Un'edizione importante, quella dell'agosto corcianese di quest'anno, che tocca un traguardo d'eccezione, quello della sessantesima edizione, portando con sé il racconto di una delle manifestazioni culturali più longeve del centro Italia, che si realizza grazie alla passione e il costante impegno dei corcianesi, vera anima del festival. Da 60 anni, gli abitanti lavorano infatti incessantemente con Solerzia durante tutto l'arco dell'anno per la buona riuscita del Corciano Festival. L'agosto corcianese, Corciano Festival, promosso dall'associazione turistica Proloco corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria, gruppo BCC Crea, della Fondazione Perugia, nonché di diverse aziende private del territorio, tornerà ad animare Corciano. Suggestivo borgo, arroccato sul colle da cui domina la strada che collega il territorio del lago Trasimeno alla Valle del Tevere, inserito nel Club Day. Borghi più belli d'Italia è riconosciuto come destinazione europea d'eccellenza, dal 10 al 18 agosto, con un'anteprima il 9 agosto quando, al Parco Enzo Melani, le note del concerto del cantautore Fabrizio Moro segneranno la inedita collaborazione tra Corciano e suoni controvento. La presentazione del cartellone martedì 16 luglio nel Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia alla presenza di Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria, Fabrizio Stazzi, Direttore Generale Fondazione Perugia, Francesco Mangano, Assessore alla Cultura Comune di Corciano, Lorenzo Spurio Passamonti, Vice Presidente Proloco Corciano. È un grande numero. È un grande numero, è una grandissima soddisfazione per Corciano essere giunti a questa sessantesima edizione, un'edizione ricca che Corciano cerca sempre di continuare naturalmente nei suoi filoni storici, le arti visive, le revocazioni storiche, la musica, la letteratura, il teatro e in ogni sezione abbiamo cercato di dare un volto nuovo ma anche tradizionale. L'ingresso del Festival Suoni Controvento nel nostro cartellone, il ritorno di Samuele Chiavoloni con Argo Teatro per una produzione originale in una nuova location di teatro itinerante a Corciano, quindi sempre alla ricerca di spazi nuovi. La musica, con la nostra certezza dell'orchestra di fiati, di cui da quest'anno bandiamo il nuovo concorso internazionale per banda di Corciano, anch'esso giunto alla 33esima edizione, un altro appuntamento importantissimo per i prossimi due anni. La letteratura con scrittori per valorizzare sia il nostro patrimonio umbro che nazionale. Quindi un cartellone sicuramente ricco di eventi. Sicuramente è un modo sia per guardare alla tradizione ma guardare al futuro. Corciano vuole rimanere sempre attento al suo cartellone con la scelta di eventi che possano attrarre sempre nuovo pubblico, essere sempre attento anche alle generazioni più giovani, meno giovani, quindi per offrire un parterra culturale, turistico che possa attrarre in senso lato chiaramente tutte le fasce d'età. Naturalmente il festival non sarebbe possibile senza l'importantissimo aiuto della Regione Umbria, quest'anno anche della Fondazione Perugia e di tutti i partner privati che ci sostengono in modo essenziale per la buona riuscita di questa manifestazione. Ricordiamo le date? Le date andiamo con il 9 agosto con questo grande evento con Suoni Controvento e Fabrizio Moroventur e poi dal 10 al 18 agosto con un cartellone ricco di cui vi aspettiamo Corciano. Il Comune di Corciano sopporta sempre l'agosto corcianese Corciano Festival? Sì, è la nostra iniziativa culturale di spessore, tant'è vero che quest'anno ce l'abbiamo la sessantesima edizione del Corciano Festival, una delle rassegne più antiche di Perugia e dell'intera Regione Umbria. Per la sessantesima edizione abbiamo allestito un programma speciale che tiene conto delle caratteristiche e peculiari del Festival, quindi la mostra d'arte, la musica sinfonica e bandistica, le rievocazioni storiche e soprattutto i grandi nomi. Il 9 agosto è previsto il concerto di Fabrizio Moro nell'ambito dei Suoni Controvento, ci sarà con noi Leonardo Manera di Zelig, avremo anche Enzo De Caro che si esibirà in uno spettacolo dedicato a Renato Carrosone accompagnato dalla nostra orchestra del Festival. Grandi nomi, grandi eventi e anche un'occasione per scoprire l'Umbria più bella.